Tra poco andrà in onda Lasciate un messaggio dopo il beat. Vi ricordo inoltre a mezzanotte e trenta cura di videosapere speciale i bronzi di Riace e a luna sottovoce per dire con più forza ciò che gli altri impongono gridando. Gigi Marzullo intervista Paolo Mosca. Buon proseguimento di serata.